Fianchi larghi, esercizi, essere sexy per l'estate. Quanti di noi lottano quotidianamente con una conformazione costituzione corporea non propriamente perfetta? Sicuramente tante, ma non temete, per i piccoli difetti che ci portiamo spesso dietro dallo sviluppo, esistono degli esercizi mirati in grado di darci una mano. Abbiamo voluto sottolineare la tematica costituzione, perché in molti casi, lo si sa, la struttura del fisico può di certo essere migliorata, ma non cambiata del tutto, e tra le tante caratteristiche tipiche del corpo c'è ad esempio quella dei fianchi larghi. I fianchi larghi, se è vero che possono essere il risultato di regimi alimentari errati o di scherzi attività fisica, è altrettanto vero che possono essere piuttosto il risultato di una particolare costituzione o predisposizione genetica. È chiaro che in questo caso si può intervenire esclusivamente sul miglioramento, stando attenti al cibo e al movimento. Ridurre i fianchi larghi dunque è possibile, ma attenzione a non pretendere troppo da voi stesse. In questo posto vi diamo qualche suggerimento in termini di esercizi che potrete gestire comodamente da casa. 1. Sdraiatevi a terra e poggiatevi su un fianco tenendo l'altra gamba tesa. Alzate e abbassate la gamba tesa per 30 volte. Ripetere poi la stessa, poggiandovi sull'altro fianco e sollevando la gamba opposta. 2. Posizione retta e in piedi. Appoggiate le mani sui fianchi e ruotate il busto a destra e sinistra. Fare due serie e ripetere per 5 minuti. 3. Poggiate una gamba a terra e mantenerla tesa. Alzate l'altra gamba in verso orizzontale e stendete il braccio opposto alla gamba alzata. Ripetere per ciascuna gamba e braccio 20 volte. 4. Prendere un bastone o il manico di una scopa. Posizionarla orizzontalmente sulle spalle dietro il collo. Effettuate torzioni con il busto a destra e sinistra. Ripetere per volte con serie da 15. 5. Poggiate un ginocchio a terra e la gamba tesa di lato. Braccia sopra la testa. Flettete il busto sul lato della gamba stesa. Ripetere 15 volte. Questi sono dei semplici esercizi da ripetere in casa. Oltre che a fare molto bene al fisico vi aiuteranno anche a distendere lo stress dopo una giornata di lavoro. Fateci sapere come va!